Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale Breadtech. Siamo arrivati a quel momento dove vi parlo del prodotto più assurdo che abbia mai provato, un prodotto che è in anteprima assoluta. Meizu 21 Pro, avete visto l'unboxing e adesso vi porto la recensione completa. Mettetevi comodi, di cose da dire ce ne sono veramente tante e ve lo voglio raccontare. Un'esperienza d'uso, quindi sarà una chiacchierata, lo sapete, mi piace raccontarvi come mi sono trovato nell'utilizzo quotidiano, perché lui lo sapete, io li provo con i miei telefoni principali per un po' di giorni, così vi posso dire un po' come vanno i pro, i contro, eccetera, eccetera. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, lo sapete, qua sotto trovate tutti i link, vi metto anche il link se siete interessati per acquistare questa bestia con le varie varianti, perché ci sono varie varianti per quanto riguarda il Meizu 21 Pro e venite a trovare anche sulla nostra pagina internet www.breadtech.it e metteremo anche lì la recensione scritta di questo mostriciatore. Ma partiamo, sigla e poi vi racconto di questa bestia, Meizu 21 Pro. Allora ragazzi, quando mi è arrivato, ve lo dico, anzi quando mi ha contattato Antonio che mi fa fare uguale attimando una chicca assurda, non ci volevo credere perché lui è riuscito a mettere mani sulla variante poi tra l'altro con la back cover in pelle vegana, ed è una variante difficile ragazzi da trovare e da reperire, ed è un telefono che sono contento di provare, di portarvi la mia recensione, perché lui, come ho detto anche nell'unboxy, sarà l'ultimo top di gamma dell'azienda e questa ragazzi, ve lo dico subito, è una roba che mi dispiace tantissimo, un po' come HTC, Meizu è un brand che a me piaceva, un brand che lavora bene, un brand che lavora bene anche lato software, che fa smartphone veramente premium, perché lui è super premium, il fatto di non vedere un successore di questo qua al prossimo anno mi dispiace, vediamo un po' come lavorerà lato software, lato intelligenza artificiale, sperando che vada comunque assistere a tenere sempre aggiornato questa bestia, con forse delle chicche che vedremo al prossimo anno, staremo a vedere, ma parliamo di lui, del Meizu 21 Pro, com'è costruito in maniera impeccabile, bellissimo, tutto squadrato, un lingottino, mi piacciono questi bordi che sono totalmente piatti, non mi piace il fatto che siano di questo colore, cioè lucido, perché è veramente delicato ragazzi, veramente tanto, brava Meizu, che però all'interno della scatola ci dà una cover in silicone che va a proteggere la perfezione del dispositivo. Il display è flat, dietro abbiamo appunto la pelle vegana, c'è anche la variante con la back cover in vetro, cambia dei due un po' il peso, lui pesa 208 grammi, la variante con la back cover in vetro pesa 214 grammi, per il resto lui è veramente ottimo, le dimensioni sono 164 x 74 x 7,98 mm di spessore, quindi comunque si fa sentire, lui è comunque grosso ragazzi, in tasca si fa sentire, è premium, dà una sensazione, veramente premium. La gente quando mi ha visto in giro, mi ha visto in questi giorni, mi ha detto Fabio ma che telefono è? Questo perché comunque lui è particolare, è diverso un po' da tutti, con queste camere che sono divise in questi oblò dietro, bello l'ultimo dove racchiude tra l'altro il bellissimo led RGB dove possiamo andarlo a impostare, a giocarci anche sopra, a metterlo, a abilitarlo per quanto riguarda l'eccezione delle notifiche, quando mettiamo in carica, eccetera eccetera, l'abbiamo visto anche sugli alti mezzo, però dicevo, lui è veramente particolare, molti mi hanno chiesto se era il nuovo iPhone, vi piacerebbe che fosse così bello, ma no, non è il nuovo iPhone, è un mezzo, e quando dicevo alla gente è un mezzo, la gente mi guardava come dire le cose che è, perché non è un marca, un brand molto conosciuto, ma lato costruttivo, super completo, come lo è lui il telefono ragazzi, perché prima di parlare del display, vi dico che qua stiamo parlando, siamo di fronte anzi a un super top di gamma, cosa è da dire? Allora partiamo dall'EP68, quindi lui è certificato per acqua e polvere, quindi questa cosa è molto buona, so che a molti di voi interessa, ha infarossi, ha l'audio speaker, ha la ricarica wireless, ha la ricarica wireless inversa, ha la ricarica veloce 80 watt, vi dirò poi dopo un po' come va anche lato autonomia, ha poi una particolarità, e qua adesso entriamo a parlare del display, display QHD, quindi risoluzione altissima, LTPO, OLED da 120 Hz, HDR10, luminosità di picco veramente elevatissima, display primo della classe, ragazzi mezzo tira fuori, soprattutto negli ultimi due anni ha tirato fuori dei display che sono di una qualità devastante, tra l'altro ha una copertura di una protezione Titan Glass 2.0, il che significa che lui è molto resistente anche ai graffi, cosa non da poco, ed è un display che sotto la luce del sole si vede divinamente, ragazzi è bellissimo, cioè può dire è veramente bellissimo, luminoso, sembra tridimensionale, sembra che le iconescono fuori dal display con la luminosità messa al massimo, e si vede bene, bravo mezzo perché poi nelle impostazioni potete andare un po' a toccare un po' a tutti i vari parametri, per quanto riguarda la luminosità, potete abilitare anche la visualizzazione in HDR sotto, tipo se andate a vedere dei video, quindi lui va a sparare ancora di più i colori, ci sono tante impostazioni dove potete andare appunto a toccare a piacimento e metterlo a piacimento come volete voi, quindi comunque lato display promosso a pieni voti, veramente bellissimo. Connettività completa, Champions League, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 7.0, Wi-Fi 7, abbiamo l'NFC, funziona con i pagamenti, l'ho provato e funziona, e GPS, zero problemi, insomma funziona tutto bene, ma qui arriviamo un attimo a un piccolo problemino che ho trovato in questi giorni, che ve lo voglio raccontare così se siete interessati ad acquistarlo lo sapete, perché per quanto riguarda la ricezione, io ho inserito la mia SIM Team e mi sono ritrovato all'interno un APN che non era della mia SIM, questo me ne sono accorto però dopo un po', grazie anche a un amico che mi continuiamo a chiamare dicendomi Fabio, guarda che il telefono mi dà sempre che sei irraggiungibile, quindi risultava sempre occupato, e io comunque avevo la SIM attiva, avevo i dati attivi, poi andando a fare varie prove mi sono reso conto che l'APN non era quella di Team, c'era un APN suo strano, quindi cosa ho fatto? Ho cancellato tutto, ho messo l'APN della Team e da lì il telefono è diventato perfetto, l'altro a ricezione chiamate, zero problemi, quindi anche voi se lo acquistate avete dei problemi, controllate l'APN della SIM, mi raccomando. Per quanto riguarda la ricezione delle notifiche, vi dico che lui non è perfettissimo, ho messo i lucchetti nelle applicazioni che a me interessano, ma alcune volte si perde qualche notifica in giro, questa cosa ve lo volevo segnalare perché in questi giorni, soprattutto su Telegram, mettendolo vicino anche al poco, che è il telefono principale, delle notifiche lui se le andava a perdere. Per quanto riguarda però la ricezione della chiamata, zero problemi, buona ricezione, in generale ottima la qualità in chiamata, ottima, dall'altra parte ci sentono benissimo, noi sentiamo benissimo, buono anche in via voce con lo speaker, comunque serio, veramente buono, molto alto, lo speaker è molto molto alto, quindi anche sotto quel profilo ha fatto un buon lavoro. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante per quanto riguarda il display, che fa parte nel, per quanto riguarda l'utilizzo di questo dispositivo che ve ne fare innamorare. Quando utilizzate Meizu, ragazzi, ve ne innamorate, vuoi il software, la velocità di sistema e tutto, lui ha un'impronta digitale sotto al display e non è classica, perché abbiamo un'impronta digitale ultrasonica, significa perfetta, veramente velocissimo a sbloccare, non perdiamo un colpo, avete le dita bagnate, avete le dita sporche, lui si sbloccherà sempre. Quindi un po' il sensore che abbiamo visto sul vivo, mi sembra l'X90 Pro Plus, è con lo stesso identico sensore, ultrasonico, veramente ottima scelta da parte di Meizu di mettere questo sensore. Parliamo adesso del software, software che è aggiornato l'Android 14. Allora, è un software che strizza l'occhio ad iOS? Sì, abbiamo delle icone molto simili, l'impostazione della, proprio, del desktop, della home, del desktop, della home è molto simile. Cosa cambia? Ci sono delle chicche, possiamo andare ad aprire delle applicazioni, facendo dei vari slide dal basso verso l'alto, dai vari angoli, possiamo andare a utilizzare più applicazioni contemporaneamente, si può andare a personalizzare veramente di tutto, abbiamo l'always on display, molto carino, possiamo anche lì ricevere delle notifiche, ma non tutte. La cosa che mi è piaciuta è che però, quando andrete ad esempio a sfruttare Spotify, abbiamo il widget nella lock screen, non tutti i cinesi ce l'hanno, questa cosa mi è piaciuta. Insomma, è un software ben studiato, un software che è molto completo, ha veramente tutto, ma cosa ve lo farà amare? È la velocità. Se voi state cercando un telefono bestia per quanto riguarda le prestazioni, è un po' come abbiamo visto sui OnePlus, lui ragazzi è forse uno degli smartphone più potenti, anzi più ottimizzati e più veloci nel panorama Android, perché ragazzi è un fulmine, è veramente un fulmine. Voi potete aprire 350.000 applicazioni, lui ha una reattività allucinante, con un plus che pochi hanno, che è la vibrazione, che lui è prima della classe, al pari del pixel, perché ha una vibrazione ragazzi spettacolare, proprio secca. E questo fa sì anche che nell'utilizzo quotidiano, quando andate a scrivere messaggi, potete farlo con una velocità assurda, e non perde colpi, perché proprio anche il touch è favoloso, proprio è favoloso. Quindi lato software generale, lato potenza, velocità di sistema, lui è uno dei migliori telefoni che potete trovare, comprare, acquistare, sul mercato oggi, veramente Meizu fa sempre dei lavori, e ottimizza sempre molto bene il software con l'hardware, e questa cosa non lo fanno tutti le aziende. Quindi questa è un'altra cosa che va a dispiace, cioè che dispiace, perché sappiamo che lui è l'ultimo top di gamma dell'azienda, perché il prossimo anno non ci sarà un Meizu 22 o un 22 Pro, ma Meizu si concentrava soltanto sull'intelligenza artificiale. Buono anche il comportamento multimediale, perché lui va a migliorare tantissimo rispetto a quello che abbiamo visto sul Meizu 21, che lì avevamo una camera da 200 megapixel, ma che ragazzi lasciava il tempo che trovava, non era un camera phone. Lui si avvicina invece molto di più ai camera phone, con tre sensori, 50, 13, 10 megapixel, sensori tutti stabilizzati, abbiamo uno zoom ottico 3x, si spinge fino al 30x, potete fare foto alla luna, ma buoni, veramente buoni, gli scatti con la cam principale. Tra l'altro, lui ha delle chicche nelle foto in controluce, la cadiera funziona divinamente, anche grazie, anche con la camera frontale, ma è ottimo il software nelle foto in ritratto, perché fa dei ritratti assurdi, e nelle foto notturne. Ho fatto delle foto dove veramente non c'era luce, lui è riuscito a trovare della luce, ma a differenza di vivo che va a fare a creare sole, lui ha creato una, diciamo, un aspetto dell'immagine molto più realistica, molto più reale, ok? Non c'erano proprio luci che venivano create dal nulla, riusciva comunque a trovare l'inquadratura, quindi a mettere a fuoco l'oggetto che noi ad occhi nudo comunque non riuscivamo a vedere perché era totalmente buio, quindi questa cosa a me è piaciuta tanto, l'autosoft ha lavorato bene, le foto mi sono piaciute, le state vedendo, in questo momento l'ho girato un po' di foto, sono buone, ovvio non siamo ai livelli di Xiaomi o di vivo, perché lui non ha quel tipo di zoom, un'ottica diversa, ma siamo di fronte a un ottimo, ottimo telefono per quanto riguarda le fotocrafie, e anche i video, perché ragazzi, i video, il registro è video fino a 8K, ma lui ha una impostazione dove possiamo andare a mettere insieme la stabilizzazione sia ottica che quella digitale per far sì di avere una stabilizzazione anche in 4K a 60fps veramente buona, veramente performante, buone anche i microfoni, perché quando lo registriamo lui registra molto bene anche la nostra voce. Insomma, mi ha convinto, lato fotocamera, sicuramente mi ha convinto molto, ma molto di più rispetto al Mezzo 21, lui ad oggi è il camera phone dell'azienda, senza ombra di dubbio c'è stato un passo in avanti rispetto anche al 20 Pro dell'anno scorso. Audio, per quanto riguarda invece l'audio, buono, speaker stereo, funziona bene, nel senso che ha un audio alto, volume alto e lui non va a sgranare mettendo anche il volume al massimo, quindi mi ha colpito, mi è piaciuto anche sotto quel profilo. Se volete un paragone, siamo sotto allo Xiaomi 14 Pro, però siamo più o meno alla stessa linea dei Vivo X100 Pro, quindi veramente, devo dire, buon lavoro da parte di Mezzo. E concludiamo con questa recensione con l'autonomia, 5050 mAh di batteria che ragazzi vi fanno un giorno totale, veramente vi fanno anche un giorno e mezzo, ripeto, lui c'ha anche la ricarica a 80 Watt, comunque ci fate quasi 7 ore di display acceso con questo mostro. E qui ritorniamo al lavoro che fa questa azienda con i propri smartphone, perché riesce sempre a ottimizzare al meglio il software, rendendolo un utilizzo, proprio un'esperienza di utilizzo di questi smartphone favolosa, perché lui è super super reattivo e veloce, con dei consumi che sono incredibili, perché lui non consuma praticamente niente, anche in stand-by non consuma niente, ragazzi, questa cosa è veramente da fare un pauso a mezzo. E quindi, che dirvi ragazzi, come conclusioni? Volete un telefono che avete soltanto voi, che pochissimi altri hanno, che non ci sarà un successore, e quindi c'è un punto di domanda anche vero sugli aggiornamenti, ripeto, lui ha avuto un aggiornamento quando l'ho ricevuto, e Android comunque 14, dovrebbe ricevere anche Android 15 e 16, quindi per i prossimi due anni, ma non sappiamo, non sappiamo come lavorerà adesso, in futuro, per quanto riguarda Meizu, però lui è un super top di gamma, perché ragazzi, non gli manca nulla, veramente, non gli manca nulla. La critica e la pecca qual è? È sempre la solita, lui è cinese, non funziona Android Auto, non ha la lingua italiana, mi raccomando, se lo acquistate, se te edite, ovviamente la lingua italiana nelle applicazioni di terze parti, come Play Store, tutte le applicazioni che andate a scaricare dal Play Store, però, per il resto, app bancarie, tutte le varie app che non interessa, la compilazione automatica per quanto riguarda le password, le varie app, lui funziona tutto, qua sopra funziona tutto, quindi si può utilizzare anche qui da noi. Insomma, è un vero peccato ragazzi, sono con, cioè, ve lo dico sinceramente, mi dispiace che Meizu abbia fatto questa scelta, perché i prodotti di Meizu sono sempre stupendi, a me piacciono da morire dai mezzo-venti che abbiamo provato l'anno scorso a questi, sono stupendi, il 21 me l'ha piaciuto, il 21 Pro lo sto amando, lo sto letteralmente amando, veramente bello. Per questa recensione comunque è tutto, se vi è piaciuta lasciate un like, iscrivetevi al canale, lo sapete, qua sotto tutti i link, se avete domande in merito a questo dispositivo, il dispositivo, potete iscrivervi qua sotto, potete venire, ci trovate sulla nostra community di Telegram, mi raccomando. E poi, vi ricordo www.breaktech.it perché lì più avanti arriverà la recensione scritta di questo bestia, ma continuateci a seguire perché la prossima settimana arriva un'altra chicca, un'altra bestia, quindi mi raccomando, arriveranno altre bestie poi nella prossima settimana ancora, quindi seguiteci in tantissimi perché solo qui portiamo comunque prodotti, diciamo, particolari. Io sono Fabio da BerkTech e dal Mailzone 21 Pro. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.